www.agenziademanio.it Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di attribuzione. Dopo aver letto le FAQ, clicca sul link per accedere al portale del federalismo ed effettuare la tua richiesta. La prima schermata è quella del login utente. Nei campi indicati inserisci il tuo codice fiscale e la password, poi prosegui cliccando sul tasto Accedi. Dopo aver effettuato l'accesso, ti trovi nella home page del portale. Sulla destra in alto trovi i comandi di navigazione attraverso i quali, durante la procedura guidata, potrai sempre ritornare alla pagina iniziale, uscire dalla pagina o effettuare il logout. Se, come in questo caso, i dadi del rappresentante legale sono stati già inseriti, saranno visibili in calce alla pagina. Altrimenti, bisognerà compilare la scheda anagrafica che trovi cliccando sul tasto Rappresentante legale. Inserisci nei campi le informazioni richieste e successivamente i dati dell'ente. Al termine della compilazione, clicca su Salva e torna alla home page del portale. Adesso è tutto pronto per iniziare ad effettuare la richiesta di un immobile dello Stato. Clicca sul tasto Elenco immobile per visualizzare la lista di immobili disponibili sul territorio di competenza. Ricorda che è possibile richiedere anche aree o immobili non presenti nella lista attraverso l'inserimento diretto dei dati identificativi, ma questo lo vedremo dopo. Dopo aver cliccato su Elenco immobili, ti trovi nella pagina di ricerca immobili. Seleziona il territorio in cui è collocato il bene che vuoi richiedere. Controlla la sintesi dei parametri di ricerca in basso e clicca su Invio per andare avanti. A questo punto, sei entrato nella pagina in cui sono elencati i beni sul territorio selezionato, presenti nella lista, potenzialmente trasferibili. Il numero è indicato in alto. È possibile salvare questa lista sul proprio PC, cliccando in alto a destra o in basso, al termine dell'elenco sul tasto Esporta PDF. Nell'elenco puoi trovare per ciascun bene le informazioni relative all'ubicazione territoriale, al numero di scheda patrimoniale e una breve descrizione degli immobili e eventuali ulteriori dettagli descrittivi del bene nella colonna Note. Nella colonna Attribuito è riportata l'indicazione dell'attribuzione degli immobili già effettuata. In questo caso, se si prosegue, il sistema avvisa con un messaggio non consentendo di effettuare ulteriori richieste. Tornando all'elenco, una volta individuato l'immobile di interesse, clicca sulla freccia a destra. Entrerai nella scheda di dettaglio immobile dove puoi consultare le informazioni aggiuntive ed effettuare la richiesta, cliccando sul tasto Domanda di attribuzione. Avendo selezionato un bene presente nell'elenco, troverai già riportati in automatico i dati relativi alla localizzazione del bene, compresi i dati catastali. Inserisci quindi i dati del referente tecnico. Poi salva per proseguire in un altro momento, oppure clicca sul tasto Prosegui per andare avanti con la domanda di attribuzione. A questo punto, sei nella schermata di riepilogo della domanda di attribuzione. Cliccando sul tasto Allega in alto, puoi allegare alla domanda dei documenti opzionali. Procedi quindi con la stampa della domanda, che deve essere firmata dal rappresentante legale dell'ente territoriale. Dopo aver scansionato la domanda firmata, effettua il caricamento cliccando sul tasto Allega. Apparirà un messaggio che indica il corretto caricamento della richiesta. Subito dopo, un messaggio ti darà la conferma dell'avvenuta registrazione della domanda di attribuzione sul portale. Alla tua domanda, sarà attribuito un numero progressivo e potrai inoltre stampare la ricevuta cliccando su Stampa ricevuta. Clicca sul tasto Home in alto a destra per tornare alla home page iniziale e visualizzare il riepilogo delle domande presentate e il loro stato di avanzamento. Ora invece vedremo come puoi presentare una domanda di attribuzione per un bene non presente in elenco. Entra nell'elenco Immobili, come abbiamo già visto in precedenza. Scorri tutta la lista degli immobili fino alla fine, dove troverai il tasto Richiedi immobili non in elenco. Da qui accedi alla schermata della domanda, nella quale potrai compirare i dati relativi al referente tecnico, alla localizzazione del bene e ai dati catastali. Ti ricordiamo che il sistema richiede obbligatoriamente il dato del codice scheda, oppure, se non lo conosci, l'indicazione dei dati catastali. In questo caso, ad esempio, stiamo inserendo il codice scheda e non sarà necessario aggiungere anche i dati catastali. Terminata la compilazione, clicca su Salva per proseguire in un altro momento, oppure su Prosegui per andare avanti con la domanda. Ti troverai nella schermata di riepilogo che abbiamo già visto in precedenza, dove potrai allegare i documenti opzionali, stampare la domanda e successivamente allegarla una volta firmata e scansionata. Ti ricordo che nella home page potrai consultare in alto in celeste le domande in corso di elaborazione e quindi non ancora inviate, mentre più in basso, in giallo, le domande già inoltrate con il dettaglio dello stato di avanzamento. Ti ringraziamo per l'attenzione. Ti ringraziamo per l'attenzione.